Certi uomini non cercano qualcosa di logico, non si possono né comprare né dominare, non ci si tratta. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. Io dovevo ispirare il bene. No, la follia, la morte. Lasciala andare. Perché sei così serio? Il Cavaliere Oscuro. Dal 23 luglio al cinema.